Il sindaco di Cotronei Antonio Ammirati e l'irresponsabile del settore comunale affari generali Antonio Scavelli nei giorni scorsi sono stati aggrediti da un impreditore che non aveva ottenuto un appalto. Da quanto è stato possibile ricostruire, Scavelli aveva proceduto ad assegnare un appalto seguendo il principio della rotazione, cosa che non sarebbe piaciuta al precedente assegnatario che ha aggredito verbalmente il sindaco e fisicamente il dipendente comunale. L'amministrazione comunale e il dirigente hanno informato le forze dell'ordine e la prefettura di Cotrone in seguito a quanto accaduto. È stato fissato per il prossimo 17 settembre un consiglio comunale aperto per discutere sulla vicenda e condannare la violenza contro le istituzioni. Alla seduta parteciperanno i sindaci della provincia di Cotrone e altri rappresentanti istituzionali. Al dirigente Antonio Scavelli, afferma Ammirati, rivolgo la mia solidarietà e vicinanza, così come a tutti gli amministratori toccati da questo episodio. Nessuno può pensare di eggersi al di sopra della legge. La comunità di Cotrone ha sempre rispinto ogni forma di prevaricazione e condizionamento in virtù della propria storia di civiltà e democrazia, perciò continuerà a farlo a testa alta. Noi sindaci affrontiamo ogni giorno grandi difficoltà nell'interesse pubblico, ma non ci sentiamo da soli. Certi, conclude il primo cittadino di Cotrone della presenza e della vigilanza dello Stato.